Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere i migliori borsoni per andare in palestra o a fare attività fisica. In quinta posizione troviamo il borsone M Puma sia per uomo sia per donna, realizzato in poliestere. Comodo borsone per andare a fare attività fisica potrete portarlo sulla spalla grazie alla tracolla o in mano con le due fibbie classiche. Chiusura a zip e borsone molto capiente con mimetica che crea un bel design, trovate il link in descrizione. In quarta posizione troviamo il borsone Yadin B, disponibile in sette diverse fantasie per trovare quello che vi piace di più. Borsone dotato di una tasca per scarpe molto ampia per sistemare facilmente diversi paia di scarpe, con tre tasche interne a rete separate e una tasca interna a zip e tracolla regolabile per trasportarla comodamente. Dimensioni di 55,9 x 30,5 x 30,5 cm per una capacità di 52 litri per avere dietro sempre tutto ciò che vi serve. In terza posizione troviamo il borsone sportivo Leone disponibile in blu, nero o verde. Borsone da palestra con un ottimo rapporto qualità-prezzo, molto ampio per una capacità massima di 80 litri per portarvi dietro, scarpe, attrezzi, vestiti, accappatoio e tutto ciò che vi serve. Due tasche laterali per posare piccoli oggetti in modo da ritrovarli con facilità senza dover cercare tra tutte le altre cose, trovate il link in descrizione. In seconda posizione troviamo il borsone Adidas sia per uomo che per donna disponibile in blu, nero e rosso. Borsone molto capiente dalle dimensioni di 70 x 32 x 32 cm con ampia tasca laterale per mettere più paia di scarpe in maniera comoda senza che si rovini. Chiusura con cerniera centrale dotato di tracolla o di manicotti per trasportarlo in maniera comoda. In prima posizione troviamo il borsone Arena Speaky 2 disponibile 5 colori diversi sia per uomo che per donna. Capiente borsone sportivo idrorepellente ideale per la piscina o per gli spogliatoi, con fondo rinforzato per una maggiore stabilità. Ampio scomparto principale e piccole tasche laterali, tracolla regolabile e manici imbottiti per un comodo trasporto, dimensioni di 51 x 23 x 26 cm, per altre informazioni trovate il link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione se siete interessati. Grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo. Grazie per aver guardato il video ci vediamo al prossimo.